Per il gruppo di minoranza Nuova Canzano il problema della frana del comune di Canzano appunto è un problema che andrà ancora molto per le lunghe, sono tanti i motivi che perorano questa vostra motivazione. Dunque noi siamo qui appunto per questo perché è da un anno e mezzo che c'è questa frana a Canzano anche forse di più e ormai siamo in autunno e arriva l'inverno praticamente c'è questo problema che è molto sentito dai cittadini perché disagi per gli anziani, per il pronto soccorso se deve venire qualcosa non può entrare, i vigili del fuoco, le imprese che devono lavorare per il terremoto non possono lavorare e entrare dentro il paese, non parliamo poi, ci sono anche degli studi professionali, un bar che stava al centro ha chiuso, quindi un paese praticamente che sta morendo e questo è uno dei motivi, la nostra maggiore preoccupazione. Noi veramente vorremmo puntare il dito sull'amministrazione perché i ritardi sono dovuti soprattutto all'amministrazione, tant'è che la regione nel 2017 aveva già richiamato il comune perché non faceva la propria parte il mutuo che doveva fare, che è stato acceso credo forse ultimamente. Poi tra l'altro si è complicato con il fatto che adesso non c'è più D'Alfonso e quindi diciamo l'atto integrativo che doveva essere firmato con il Ministero dell'Ambiente, quindi bisognerebbe nominare adesso un commissario ad Acchita per poter andare avanti con i lavori. Ovviamente la frana non è che è franato perché è successo per caso, noi questo lo vogliamo anche chiarire in maniera molto decisa per dire che la frana è successa perché scarsa manutenzione e poi mancata la reggimentazione delle acque, tutti i sottoservizi erano rotte tipo le fognature, quindi diciamo c'è anche una colpa da parte dell'amministrazione, ma fatto ancora più grave è anche collegato diciamo ai lavori fatti nel 2014-2015, terminati nel 2016 e franati nel 2017, crollati. Cioè questo è un fatto che noi ancora abbiamo chiesto l'UMI al comune ma anche al Genio Civile, nessuno ci ha risposto. Io mi chiedo quando c'è un collaudo statico che tutto sta a posto può franare un'opera pubblica dopo un anno? Qual è dunque la vostra proposta? La nostra proposta era stata, onde evitare quindi queste lungaggi che ci sono state, quindi siamo ormai a un anno e mezzo di riaprire provvisoriamente il traffico a traffico leggero, centro storico per non far morire le imprese e non creare problemi ai cittadini e nel frattempo ad operarsi per fare un progetto risolutivo sulla frana non fare come si sta facendo un intervento che ripercorre le stesse logiche del passato palificate che sistematicamente sono franate, come quella del 2016, franata nel 2017. Ovviamente nessuno ci ha ascoltato e poi siamo contro l'abbattimento delle case perché sono case che storicamente fanno parte della struttura storica di Canzano.